Ciao, come vi putta? Sono Bruno. Io presento il programma Funky Fight, il più importante show di moda televisivo in paese di Pucca e di lingua tedesca, a parte Germania. Questi occhiali sono esagerati? C, li eliminerei. Sì, troppo chiazzo. Guardatemi, guardate i miei occhiali. Il mio piano era difettare più grande star gay di cinema dopo Svatnega. State zitte, tonne. Fate improvvisazione. Bene. Oh, santo cero. Come potevo difettare il super famoso? Ma che razza di cintura è il record. D1G. D1G? Dolce Ungabana, buongiorno. Buongiorno. Angelina Cioli ne ha uno, Madonna ne ha uno, ora Bruno ne ha uno. Ti posso come in televisione? Il prossimo ospite è un genitore single. Amici, diamo il benvenuto a Bruno. Allora, come ha avuto il suo figlio? Ho fatto scambio. Faccio il bambino? Beh. Hai scambiato il bambino con cosa? Con un iPod. Cosa? Metti in merda! Non un iPod qualunque, un'edizione limitata, rosso, un iPod o due, è presente? No un'edizione limitata, non un'edizione limitata, rosso, un'edizione limitata, rosso, un'edizione limitata. Non c'è un'edizione limitata. Come una cosa, la mia? Apoio. Ho fatto scambio.